Grazie a tutti. Per interpretare le sfide per i giovani, per i manager, gli innovatori pugliesi, nonché per essere insieme a voi rettori, in particolare alle vostre e nostre prestigiose università, protagonisti di un nuovo rinascimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.